Pagellone, beh ieri comunque sulla partita di ieri abbiamo sofferto un po' troppo più del previsto abbiamo un po' sottovalutato la squadra che avevamo contro sperando che non succeda la stessa cosa con una tra Portogallo e Belgio perché altrimenti credo che non passeremo quindi vedremo innanzitutto chi passerà stasera perché Belgio e Portogallo giocano stasera e poi quando ci sarà la partita vedremo se sottovalutiamo anche quella squadra oppure giochiamo come abbiamo sempre giocato a parte questa partita che è stata un po' così poi vabbè i cambi sono stati decisivi e ci siamo portati a casa per fortuna detto questo passiamo alle pagelle incominciando come sempre da Donnarumma perché comunque ha fatto delle grandissime parate alcune anche spettacolari nella nostra opinione diciamo da vedersi non mi viene da vedersi però sono anche parate abbastanza importanti è vero che comunque ha subito un gol però non credo che ci poteva fare un granché di Lorenzo voto 6 è vero che comunque al 120esimo lui era ancora là a correre sulla fascia e robò così e che stava anche per segnare però sinceramente non credo che abbia fatto tutto questo gran partitone anche se comunque è solo affatto però è un po' peccato diciamolo così e Bonucci ma io Bonucci ci ho dato un mezzo voto in meno a Di Lorenzo perché comunque c'aveva c'aveva Arnatouche che nel primo tempo praticamente faceva quello che voleva ok che poteva ok che un attimo giocatore eccetera ma uno con l'esperienza di Bonucci non dovrebbe mai farlo passare a uno come Arnatouche poi è per fortuna che comunque ha sbagliato molte cose anche Arnatouche quindi bene così a Cerbi voto 6 e mezzo perché ha fatto ha fatto l'assist e comunque sinceramente l'ho visto leggermente migliore in confronto a Bonucci sinceramente Spiazzone voto 6 anche lui ha fatto l'assist ma poi sinceramente a molti dicono che è stato il migliore in campo io sinceramente magari non ho visto molto bene io la partita di Spiazzone eccetera però non ci ho visto fare tutto questa grande gran cosa e poi poi magari se mi sbaglio per la carità e posso anche sbagliare magari scrivete a questo ottimo commento Verratti voto 5 secondo me è stato un errore metterlo dal primo minuto perché si vedeva che ancora ok non ci aveva 90 minuti eccetera però ho fatto qualche errore che davverratti io sinceramente non non riesco a tirarlo giù Giorginho voto 6 e lo marcavano sempre in due e questo voleva dire tanto questo vuol dire tanto che comunque temevano tantissimo Giorginho e però comunque lui secondo me la sua partita l'ha fatto bene lui è il centrocampo quello che ha potuto reggere lo ha retto quindi secondo me comunque il 6 ce lo merita Barella voto 5 e l'ho visto molto bloccato dagli avversari eccetera perché comunque tutti gli avversari c'erano alcuni momenti che che stringevano tantissimo i giocatori verso i giocatori dell'Italia e quindi non riuscivano a fare il gioco che tutti conosciamo e quindi per questo che Barella l'ho visto un po' niente poi viene anche munito quindi quindi secondo me è giusto metterci il voto 5 Insigne voto 6 prova sempre quel cavolo di tira giro non gli è entrato stavolta quindi vedremo alla prossima se innanzitutto lo farà giocare titolare e poi se finalmente riesce a far segnare con il suo tiro al giro Immobile voto 6 tira poche volte ma quelle poche volte sono molto pericolose mi ricordo quel tiro che già solo a pensare a tirare da la dico boh io non ci avrei mai pensato devo essere sincero poi per fortuna lui è là è pagato per questo eccetera lui tira da quella posizione un altro posto stava per segnare poi vabbè la sfortuna vuole che prenda il palo quindi è un po' così Berardi 5 e mezzo non l'ho visto molto in serata Berardi e fatto anche lui molti errori soltanto che se riusciva anche lui a prendere a moto quella mezzo quella palla e in mezzo rovesciata tutti a dire che fenomeno è così e cosa Poi vabbè non c'era riuscito quindi ora ora dire tutte però sappiamo tutti quanti che siamo che siamo così quindi che ci volete fa vabbè ora passiamo passiamo ai cambi chiesa voto voto sei e mezzo sei e mezzo entra corre tantissimo perché io ho visto chiesa correre tantissimo Gli altri vabbè erano spompati poi sempre quello e segna e lui è il primo gol che segna e quello che sblocca Poi sinceramente ha fatto un gol difficilissimo ha fatto un controllo di palla e di testa che forse neanche lui sa come come ha fatto Poi vabbè ha spostato la palla e ha tirato da posizione un po' defilata ed è entrata dentro Quindi comunque il voto sei e mezzo secondo me se lo merita Belotti 5 e mezzo non ci ho visto fare poi così tante cose in confronto al mobile Ho visto che è stato proprio questa la sostituzione immobile Belotti Ho visto fare più o meno le stesse cose poi è vero che Belotti ha costo leggermente di più però Io da un sublentato mi aspetto leggermente di più quello sì Pessina che è diciamolo a tutti è l'uomo del momento da che non doveva manco manco giocare costo europeo A che segna due valini in costo europeo è tanta roba Quindi questo vuol dire che comunque anche chi non dovrebbe manco essere convocato il suo lo dà E l'abbiamo visto come lo dà La spinta che dà a questi ragazzi la nazionale secondo me non lo dà nessuno Però vediamo Locatelli voto sei perché sinceramente è entrato e non ci ho visto fare tutte queste gran cose Però non fa cavolate quindi è giusto dargli sei Mancini voto otto perché vede che comunque la squadra è in difficoltà soprattutto a centrocampo Mette subito i due giocatori a centrocampo e praticamente quelli là sono i due ragazzi che hanno segnato Cioè Pessina e Chiesa quindi bene a lui che ha visto questi cambi quindi è giusto dargli l'otto comunque Votto squadra il 5 e mezzo perché comunque non ci ho visto fare tutte queste gran cose Vabbè poi comunque come ho già detto per fortuna ci sono stati i cambi che l'hanno svoltata Però altrimenti non l'avremo mai svoltata Cioè nel primo tempo era un dato anche svantaggio per fortuna che il VAR ha detto che era in fuori gioco Vabbè sul gol sinceramente non voglio dare nessuna colpa a nessun giocatore perché è un po' così Poi anche il primo gol che subiamo quindi lo lascio un po' sul vorale mettiamolo così Visto che siamo anche passati un po' così Arbitraggio voto 5 sbaglia diciamo tutte le valutazioni diciamo quelle più pericolose da parte dell'Italia Poi vabbè quelle lontane le fischiava tutte e invece quelle vicine all'aereo non le fischiava manco una Quindi soprattutto da parte dell'Italia Quindi secondo me poi il resto ha fatto una discreta partita manco poi così tanto malissimo Però l'arbitraggio un po' da migliorare Detto questo sono finite le pagelle ci vediamo al prossimo video Forza Sassu Forza Azzurri E ciao